Cantiamo insieme Ombres Nuevos. Ombres Nuevos, creadores della storia, costruzione della nuova humanità. Ombres Nuevos che vivono la existenza come il rischio di un largo camminare. Danno un Corazone grande per amar. Danno un Corazone forte per lutar. Ombres Nuevos, luchando in esperanza, caminanti sedienti di verità. Ombres Nuevos, sin freni di cadena. Ombres Mabri che vivono la libertà. Danno un Corazone grande per lutar. Danno un Corazone grande per lutar. Ombres Nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Ombres Nuevos, al lado de los pobres, Danno un Corazone grande per amar. Danno un Corazone forte per lutar. Buonasera a tutti, segnalo che qui davanti c'è ancora qualche posto per quelli che sono arrivati e si possono occupare tutti i posti. Questa sera ci troviamo come da volantino inviato per fare un'assemblea sul tema del lavoro, assemblea che è nata da questi anni così particolari che hanno un po' tolto la routine del rapporto casa lavoro e hanno riproposto in maniera molto importante il rapporto fra il lavoro e il tempo libero, perché investire così tanto tempo nel lavoro, perché fare questa fatica, che senso ha il lavoro e ci siamo trovati a osservare questo fenomeno da diversi punti, cioè sia i giovani che iniziano il lavoro, sia chi in questi anni particolari, sia chi il lavoro lo fa da 20 o 30 anni, sia chi rischia facendo un'impresa. Questa domanda è diventata urgente ed emergente in tutti e le risposte non sempre sono così facilmente osservabili da soli e piano piano abbiamo provato a fare una strada insieme, un percorso insieme e da qui è nata questa provocazione di questo volantino, lavorare per vivere o vivere per lavorare, per cercare di aiutarci a iniziare un lavoro, per ricapire qual è il senso del nostro fare e anche la fatica e la gioia che rincontriamo tutti i giorni. Abbiamo scelto la modalità dell'assemblea perché i temi e le domande erano tante, per cui invito subito a iniziare, ai noi bisogna uscire sul palco e utilizzare il microfono. Ciao, sono Martina, ho 33 anni, ho tre figli, un marito, una casa e anche un lavoro. Allora, quando Witte ci ha proposto questa assemblea in realtà sono stata molto contenta perché ammetto che sono stati anni per me molto impegnativi dal punto di vista ovviamente del lavoro e della gestione che per me è il tempo libero, è di fatto la mia famiglia. Perché insomma quello che mi rendevo conto in questo, insomma anche ripensando all'assemblea di stasera così, è che come dire non ho bisogno di, cioè insomma vedo che le mie giornate, la mia vita così, è un rischio un po' sempre di, primo arrivare viva sera e secondo di trovare come fosse l'equilibrio, l'equilibrio che il lavoro deve avere all'interno della mia giornata che è fatta del lavoro, ma gran parte del lavoro, ma non solo. Quindi la pandemia ovviamente questa domanda l'ha, come dire, ovviamente fatta esplodere perché insomma nel momento in cui, non so, le scuole erano chiuse così e il fatto che uno avesse dei figli era, come dire, uguale agli altri, no? Cioè non c'è stato dato nessun tipo di aiuto o cosa, quindi uno doveva gestire il lavoro esattamente come tutti gli altri. Mi ha fatto tanto domandare su, cioè in realtà poi a maggior ragione quando poi siamo rientrati che è tutto ripartito velocissimo, con anche tante pretese sul lavoro così, insomma mi sono come resa conto che la domanda in me è che valore ha il lavoro, nel senso, ma non appunto perché gli devo dare una scaletta di priorità e quindi prima c'è la famiglia, poi c'è il lavoro, ma perché se capisco che non rispondo a questa domanda, insomma faccio fatica, poi non so, io per esempio in realtà negli ultimi anni, nonostante appunto le tre gravidanze ravvicinate e tutto, sono in un posto di lavoro dove in realtà, come dire, vengo stimata e si scommette su di me, il problema è che poi io sono sempre un po' in difficoltà perché scommettere su una persona ovviamente vuol dire anche dargli più lavoro, dargli più responsabilità così e io allo stesso tempo da un lato, come dire, ovviamente sono entusiasta e per quanto non abbia mai aspirato a fare chissà carriera, ma perché non mi interessa, poi nel momento in cui uno si trova dentro è chiaro che gli dispiace dover rinunciare o deludere perché non riesce a starci dietro, dall'altra capisco che a un certo punto uno, insomma è chiaro, per me il lavoro, quando si parla di lavoro si parla anche della mia famiglia e quindi ho tanto la domanda soprattutto perché penso che la nostra generazione sia una generazione diversa nel senso che la donna non può non lavorare, nel senso che comunque per arrivare poi a fine mese, ma che poi alla fine anche lì si ha tutto un po', anche nel volantino si parlava anche di valore economico del lavoro, è tutto un equilibrio perché io spesso mi sono trovata a dire, vabbè senti però alla fine lavoro e con quello che guadagno, perché c'è anche tutto un aspetto secondo me di ormai diseguaglianza tra il costo della vita, il costo dei figli e quello che è il mio stipendio e quindi poi arrivi stremato, dai tutto, cerchi di fare del tuo meglio, di dare il tuo maggior contributo per poi arrivare anche economicamente alla fine che dici boh forse era meglio che mi sbattevo meno, facevo due ore in meno al lavoro, gestivo di più i miei figli, avrei pagato meno babysitter, adesso sto tirando fuori tanti temi, ma perché appunto questo per tornare un po' al discorso iniziale di dire o è tutta una questione di equilibri in cui uno deve cercare di stare in bilico su mille rotelle che girano oppure capisco che in me ci sia l'esigenza di ritornare un po' all'origine di cos'è il lavoro, di perché uno lavora e allo stesso tempo di perché invece uno oltre al lavoro ha tante altre cose da fare nella vita, alla famiglia, alle proprie passioni, ai propri amici, non lo so, ho buttato lì un po' di cose ma perché per me sono un po' tutte unite in realtà. C'è una frase di Giussani stranissima che dice che il lavoro è il modo arido e faticoso di rispondere a Cristo. Perché? Perché vuol dire che, e sono d'accordo con Martina, oggi riguarda l'uomo e la donna, anche la donna che ha famiglia, perché tu rispondendo al punto in cui sei stai offrendo la tua fatica per cambiare la realtà e se uno non lo fa gli manca qualcosa. Ma, aggiungi Giussani, è arido e faticoso, non è detto che sia, come dire, il non plus ultra. È un modo con cui io sto sulla realtà che ho davanti per cercare di trasformarla e rendere il mondo migliore, anche se io non lo vedo. Ma se io non lo faccio mi manca qualcosa. Mi manca qualcosa alla mia esperienza di persona. Perché misurandomi con delle cose oggettive che io non ho scelto, partendo dalla posizione ideale che ho, io capisco di più perché sono al mondo. E quindi questo aspetto diventa fondamentale per l'uomo e per la donna oggi. soprattutto quando, e andiamo subito nel merito, diventa un'offerta. Io offro la mia fatica perché tu la trasformi per rendere il mondo migliore. Perché io partecipi al sacrificio della croce per arrivare alla risurrezione. Noi abbiamo questa concezione, quella per cui San Giuseppe ha lavorato 30 anni con il Signore. Se non è questo livello, è evidente che può dominare il lamento o altro. Ma allora, per questa ragione uno accetta l'equilibrio che non è, come dire, tutto il resto. Perché tu, con quello che stai facendo, stai contribuendo al sacrificio di Cristo per trasformare la realtà. Questo è il lavoro cristiano. Ci ho detto, evidentemente, proprio per lo stesso motivo, uno non dà tutto al lavoro. Cerca di costruire un equilibrio che tiene conto di cose fondamentali per vivere la persona. Che è gli affetti che ha, le condizioni che ha, il lavoro, la famiglia, i punti che servono per generare se stessi. E quindi da questo punto di vista apparentemente siamo più svantaggiati degli altri. Perché gli altri danno tutto al lavoro. Ma alla fine viene fuori un'aridità. Perché una donna che ha 40 anni non ha un legame fisso e neanche un figlio non è certamente una donna pagata. Quindi, secondo me, la prima questione da capire è che il lavoro è questo aspetto con cui, accettando la fatica per cui sono dentro, sto partecipando alla redenzione del mondo. Al di là del padrone, al di là del salario che prendo, al di là delle condizioni che faccio. Tutte queste sono cose da perseguire. Ma se non c'è questo tipo di percezione, se non c'è questo... è evidente che saremo sempre insoddisfatti. Anche perché la condizione del lavoro per voi giovani adesso è certamente peggiore di quella di 30 anni fa. C'è da affrontare un precariato, c'è da affrontare una fatica. E per non essere precari dentro bisogna essere stabili in qualcos'altro. D'altra parte, non è una cosa nuova, perché se pensate, noi siamo un paese in cui cent'anni fa 25 milioni di persone sono andati emigrati, sono andati in miniera, sono andati in America. E questi qui come hanno giustificato questo aspetto? Proprio per l'offerta di sé per qualcun altro, che oltre Gesù era la propria famiglia, era qualcuno da sostenere. Ecco, noi non possiamo fare altrimenti. Dobbiamo avere qualcuno per cui lavorare, il Signore e della gente con cui vivere questa fatica. Allora potremmo reggere il sacrificio, le cose, la precarietà, perché abbiamo una stabilità, un motivo. Noi scopriremo quello che abbiamo incontrato proprio lavorando. Aggiungo, proprio per quello che diceva adesso Giorgio, come punto iniziale, se il tema del lavoro fondamentale è partecipare alla costruzione della realtà, modellare il mondo, costruire il mondo, allora anche la parte dei figli e della famiglia ha la stessa sfida. È lo stesso tipo di lavoro, cioè il contributo che uno dà a far sì che questo mondo possa continuare a essere costruito. E il soggetto del lavoro è la persona, cioè la crescita della persona. Partendo da questo, è poi chiaro che uno ha il lavoro della famiglia, ha quell'equilibrio lì. Ma se uno non parte da questo, sta al lavoro pensando che era meglio stare a casa con i figli e sta a casa con i figli pensando che era meglio se lavorava. Invece questa strada porta a un punto di letizia, non di non fatica, non di non arrivare a sera trafellati, ma un punto di letizia. Luca, grazie innanzitutto per aver proposto questo spazio di dialogo perché sento molto il bisogno di confrontarmi sul tema del lavoro, che è quello che noi facciamo per almeno otto ore al giorno. Allora, mi sembra che uno dei temi sia il quanto si lavora. Beh, io penso che sia evidente che ormai quello che ci chiede la realtà sia di lavorare di più rispetto a quello che pensavamo essere quello corretto, le ore corrette da lavorare nella giornata. Perché è quello che ti chiede per fare una serie di professioni, di ruoli e di avere una serie di possibilità. Mi permetto di dire, cioè i nostri nonni quando stavano nelle miniere del Belgio non lavoravano solo otto ore al giorno e non avevano il culo al caldo d'inverno o al fresco d'estate. Quindi su questo, come dire, io lo prendo anche come una sfida che ha la realtà, no? Cioè io stando di fronte alla realtà, se voglio stare di fronte a certe tipologie di lavoro, a certe attività, a certe cose, devo mettermi in, come dire, prendermi l'idea che si lavora di più, no? E allora è in questo lavorare di più che uno cerca il gusto del lavoro. E lo scopre perché scopre un dettaglio che lo affascina, incontra un cliente che ti prende, vai a fare una trasferta che ti fanno vedere delle cose. A me la cosa che piace del mio lavoro è questa, cioè che incontrando tante società, io faccio il professionista, il consulente, tanti soggetti, tante persone di estrazione anche molto diversa, c'è questa possibilità, no? Per cui uno sta di fronte a quello che gli viene chiesto, cioè che è lavorare di più per raggiungere uno scopo che evidentemente, come dire, se c'è una certa possibilità di fare carriera uno ci sta dentro, no? Ci prova a farla. E accetti una realtà che ti è posta davanti, che è tosta perché adesso c'è stata la ripresa, sì, la ripresa è molto confusionaria, quindi richiede, come dire, più stress. Siamo tutti più affaticati. Quando si parla di The Great Resignation è un dato di fatto che c'è gente che non ce la sta facendo a stare a certi ritmi, a certe richieste, a certi livelli, no? Però uno, secondo me, è standoci che scopre un gusto e una cosa che è interessante. Bomber, io ti dico come affronto quello che stai dicendo tu. Per me la questione fondamentale ogni giorno è proprio come mi imposta il movimento, che è l'idea dell'incontro. Cioè ogni giorno uno va sotto. Ci sono condizioni in cui perdi, cioè momenti del lavoro in cui tu non ti accapezzi, il capo che non ti risponde, qualcosa che non funziona. E quindi puoi arrivare alla sera, che sei sconfitto, che ci sono giorni, oppure che non ce la fai più, eccetera, eccetera. Il tema è la ripresa, che la mattina, quando tu riprendi, mettendoti davanti a quello che hai incontrato, ti viene, come dice il Salmo, il Signore a destra le mie dita alla battaglia le mie mani alla guerra. Mi fa riprendere la giornata con la voglia di fare tutto il possibile per stare su. Cioè è la categoria dell'incontro che ci permette di lavorare. Cioè che io ricomincio ogni giorno come fosse il primo giorno, tentando di correggere le cose che ieri non funzionavano e di migliorare quello che ho davanti. Non è, come dire, un pensiero unico generale, ma è proprio la ripresa, è l'idea del rinizio. Oggi, Signore, aiutami, fammi stare davanti. Perché se uno non riprende con questa percezione dell'incontro, innanzitutto con chi c'è, io non ce la posso fare con l'idea. Perché, come diceva Martina, le condizioni sono precarie. C'è i tre figli da mettere a posto, la roba, eccetera, eccetera. È un soffocamento. A meno che io oggi, in questo momento, all'istante, quando parto, alla mattina, mi rimetto di fronte al motivo per cui ci sono. Che è un incontro. Di Lelodi, sia l'Angelus o quello che è, è io riprendo coscienza del motivo per cui lottare e quindi star davanti alle condizioni che ho. Se non è un incontro, allora io, anche dal punto di vista professionale, non riesco ad affrontare la realtà. Poi, evidentemente, questo vuol dire anche un'intelligenza, tale per cui hai ragione sul dire che bisogna lavorare, però bisogna poi trovare anche delle condizioni in cui questo equilibrio può essere fatto. Per cui, se nel lungo periodo è impossibile avere delle condizioni di lavoro di un certo tipo, bisogna cambiare lavoro, perché uno non può sacrificare tutto a questo. Un equilibrio precario tra lavoro e famiglia va costruito, va cercato, ma proprio perché io non posso ridurmi a perdere di vista il significato per cui vivo. Se un lavoro mi impedisce di vivere gli affetti familiari e di vivere la vita del movimento è un lavoro che nel lungo periodo non va bene. Perché, ripeto, la questione fondamentale è che io ogni mattina possa ricominciare. E ogni mattina è il tema. Ogni mattina posso rimettermi davanti. E guardate che questa non è una cosa spirituale, è anche la questione che riguarda l'affronto delle condizioni. Io devo ragionare su quello che è capitato, dove ho sbagliato io, dove posso cambiare, dove posso migliorare, perché mettersi davanti a quello che ho incontrato mi rende più lucido rispetto alle condizioni di vita in cui sono. È la condizione per essere realista, accettando gli errori che ho fatto, capendo una strada. Se io non ho questa coscienza dell'incontro, io non ho neanche la capacità di progredire professionalmente. La seconda questione di questo è, non da soli, bisogna cercare qualcuno che ci aiuti continuamente. Se molti mi dicono il maestro, se non lo trovi sul lavoro, trovo là fuori. Perché una volta fatto, bisogna che la compagnia in cui si vive sia un fattore che si usa. Non perché ci levi le castagne dal fuoco, ma perché è esattamente lì che hai quei criteri con cui tu puoi affrontare quello che hai. Per me è stato sempre fondamentale nei passaggi difficili del lavoro, neanche le persone che facessero statistica, ma delle persone della vita del movimento che mi hanno aiutato a capire quali sono i passaggi. Noi non viviamo da soli. C'è sempre qualcuno nella nostra compagnia che magari fa lo stesso mestiere, oppure che non lo fa, ma che ci può aiutare a capire come questo incontro diventi criterio concreto, suggerimento, modo di fare. Io ho usato moltissimo della compagnia del movimento per capire le questioni professionali. E secondo me, anche tra di noi, l'individualismo può essere il fattore che ci frega. Cioè il lavoro è una cosa nostra. No. Il lavoro non è una cosa nostra perché la compagnia lì diventa, qual è il criterio della compagnia delle opere? Un'amicizia operativa. L'amicizia operativa è un fattore che fai l'avvocato, fai l'architetto, lavori in banca, diventa un suggerimento continuo. Usala. Questo è un fattore che tu hai che gli altri non hanno. E che diventa non, come dire, il rimedio, ma qualcosa che ti rende più intelligente. Perché quello che hai diventa la tradizione di tutto un popolo. Risorse umane, quello che è. Io mi ricordo che quando facevo la compagnia delle opere, Giussani mi interpellava per la gente che cercava lavoro. E il modo suo, con me e con gli altri, era alzare il telefono. Io mi ricordo, per esempio, faccio un esempio che io conobbi quello che adesso è l'attuale amministratore delegato dell'Enord, Marco Piuri, faceva il terzo anno di università, Giussani mi invitò a pranzo e mi disse tu ti devi prendere carico di questo qua. Telefonava, alzava il telefono, diceva parla con questo, parla con quell'altro, ma c'è qualcuno che... Ecco, questo è il secondo fattore che ci aiuta nel lavoro. Che c'è sempre qualcuno che ti può aiutare in quello che stai facendo. Ti può suggerire una cosa che non ti veniva in mente. Noi non siamo soli. Prego. Sono Paola. Sono l'amministratore delegato di un'agenzia di relazioni pubbliche. La mia storia è il frutto di una telefonata di Giorgio, tanto per stare in argomento. mi preme dire questo, che la contrapposizione tra vita e lavoro è una menzogna a cui secondo me dobbiamo sottrarci. Perché il lavoro è una parte importante della vita ed è importante che quando si lavora si viva. Quindi si metta in gioco tutto quello che si è. Per me questo è stato molto importante, perché io ho cominciato a fare questo lavoro pensando che sarebbe stato un lavoro provvisorio, perché io volevo studiare e fare la carriera accademica. Ma dal primo giorno, nel fare quello che facevo, ho comunque messo in gioco tutto, anche le mie passioni, la mia capacità di fare ricerca, e l'ho messa nelle cose che facevo, la curiosità, la cultura, la sensibilità della scrittura, cioè tutto quello che potevo fare. Mi occupavo del foscolo, immaginatevi, il mio primo lavoro è stato sui rifiuti, quindi diciamo che lo stacco è stato abbastanza forte. Però io non ho sentito una vera discontinuità, perché per me è stato possibile fare nel lavoro un'esperienza di pienezza, di mettermi in gioco con quello che ero, facendo una cosa che non sapevo, che dovevo imparare, che non mi aspettavo. E questo è stato un po', diciamo, il primo aspetto in cui ho sentito la possibilità di vivere il lavoro come qualcosa in cui io sono unita, sono una, non sono divisa. La seconda cosa, un'esperienza che ho vissuto, che è stata per me una grande sorpresa e che poi è diventato, credo, un po' come una cultura di questa società, è stato vedere le prime esperienze dei colleghi, delle colleghe in particolare, che andavano in maternità. Ovviamente questa cosa, inizialmente, soprattutto allora eravamo piccoli, crea un certo sconcerto, adesso come facciamo, eccetera, ma la cosa di cui ci siamo accorti molto velocemente è che l'esperienza della maternità, così come della paternità, è una ricchezza anche per il lavoro. C'è un libro di Riccardo Azzezza che si intitola La maternità è un master. Lei ha messo molto bene per iscritto questo concetto, perché comunque l'esperienza della maternità è un'esperienza che fa fare tutta una serie di salti che poi si possono riberberare molto bene anche nell'esperienza professionale. Ma questa cosa ha fatto sì che nella nostra agenzia, che è fatta di tante donne, perché la comunicazione è un mondo molto femminile, l'esperienza della maternità, della paternità, non sia mai stato un ostacolo alla crescita delle persone, alla carriera. Naturalmente, venendosi incontro con i part-time, con tutto quello che si poteva fare, ma anche, come dire, evolvendo nella storia, perché poi gli strumenti legislativi sono anche cambiati, eccetera. Però questa cosa nasce da una cultura, evidentemente, di appartenenza, per cui tu stai davanti alla persona, e la persona è intera, e la persona è una persona che ha una storia. Così è stato per l'esperienza della malattia di alcuni colleghi, quindi capire come si poteva accompagnarli. C'è la persona che ha bisogno di staccare dal lavoro, c'è la persona invece che ha bisogno di continuare a lavorare per combattere contro la malattia. Ecco, cioè, questo aspetto di unità della vita è fondamentale, è un criterio, secondo me, perché è proprio l'unità della persona e l'unità della vita. E arrivo alla terza cosa che voglio dire, proprio per questo, secondo me, non bisogna rassegnarsi al fatto che oggi si chieda a tutti di lavorare di più, che non si abbia nessuna considerazione di altre esigenze, o se arrivi al punto, come so che si è arrivati in alcuni punti, a chiedere nei colloqui se uno ha intenzione di fare dei figli. Cioè, non dobbiamo rassegnarci, perché, e quindi farcelo andare bene, come una cosa che non si può cambiare. Ecco, io questo, poiché ho un'età per cui mi sento molto responsabile, di come la mia generazione ha tradito tanti ideali, e ha creato una società dove il profitto è veramente l'unico criterio che schiaccia qualunque altra considerazione. Io credo che non dobbiamo rassegnarci, non dobbiamo rassegnarci all'idea che l'incontro che abbiamo fatto, e soprattutto quella categoria dell'infallibilità del cuore, valga sempre per tutto, ma non per il lavoro. Questo no, questo non è possibile. Noi non possiamo pensare che il lavoro risponde a dei criteri diversi da questo. Questo, secondo me, è inaccettabile. E se noi ci facciamo complici di questa menzogna, ne siamo responsabili. Io mi sento responsabile come generazione, soprattutto anche se, come dire, nell'esperienza del lavoro e delle responsabilità che man mano mi sono presa, cerco, con tutti gli errori che certamente faccio, di non dimenticare questa cosa, di usare un altro criterio. Però io penso che anche come giudizio culturale sul momento storico che viviamo, non dobbiamo pensare che il lavoro risponda ad altri criteri, così come l'economia risponde ad altri criteri, così come la politica risponde ad altri criteri, perché se ci sono cose che rispondono ad altri criteri, significa che quello che abbiamo incontrato non è vero. Cerco di tradurre in termini personali quello che diceva la Paola. Innanzitutto sul lavoro, lei voleva fare Foscolo e è finita a fare la comunicazione. Io mi sono lavorato nel 79 in economia e per rimanere in università sono andato all'Istituto di Statistica in Statale, avendo in mente che doveva uscire il dottorato di ricerca un qualche mese. Il dottorato di ricerca è uscito nell'83. Quindi io sono rimasto per tre anni come quelli della mascherpa, cioè nel senso combinando un cazzo, lì. E quindi evidentemente dopo qualche mese ho pensato che avevo sbagliato lavoro. Perché già non è che era la statistica, io non sono nato che pensavo da piccolo di fare lo statistico, cioè me lo sono trovato lì. Quindi io dopo un po' di tempo ho detto sbagliato. E siccome però non avevo i coglioni per dire che avevo sbagliato, cercavo di farmi dire da Giussani che avevo sbagliato e quindi io era giusto che cambiassi lavoro. Allora Giussani per tre, anzi per quattro anni, anche quando ho cominciato il dottorato, che è uscito nell'83, praticamente non mi ha mai dato risposta, mi ha lasciato nel bagnasciuga. perché voleva, l'ho capito anni dopo, che io tirassi fuori i coglioni e dicessi quello che volevo, cioè che io avrei voluto fare qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso non c'era è che io decidessi cosa fare. Che io dicessi io. Dire io vuol dire a fare quello che si vuole. se non c'è, accettare quello che hai davanti come una cosa buona, senza dimenticare il desiderio che hai, ma cominciando con quello che hai davanti. Io infatti lì, a un certo punto, in un colloquio, in cui lui mi disse, un po' spregiando, tu non sai se ce la fai neanch'io e quindi per questo sei lì in crisi continua. Però se tu offri, quello che fai può servire. E questa cosa mi costrinse a tirar fuori il mio io dicendo quello che ho davanti è quella roba lì, fallo, anche se mi ripugnava. All'inizio la statistica mi ripugnava. Perché c'è un libro in inglese, con il pieno di formule greche da studiare, la lontananza appunto dopo tre anni per aspettare il dottorato e quindi questo mi ripugnava. Ma questo aspetto di mettere in gioco l'io cominciò a farmi accettare questa cosa come qualcosa che poteva interessarmi. Io avevo sempre sognato di fare un lavoro sociale, eccetera, eccetera. Ma cominciai a guardare questa roba qui e dopo un po' mi capitò davanti un professore tedesco, pazzo come me, con cui ci fu un feeling e io cominciai a ingranare su questa cosa. Ma l'ingranamento fu perché io, per l'esperienza che facevo, cioè per il fatto di essere stato costretto a pani e pesci, dissi sì, quello che ho davanti va bene. Questo per me vuol dire la questione del cuore che dice la Paola. Primo, bisogna cercare quello che si vuole. Se non c'è, devi accettare quello che hai davanti. Questo non vuol dire non mettervi il sogno nel cassetto, ma tenerlo lì, perché poi sarà la realtà che risponderà al tuo cuore, corrispondendo a quello che hai in mente o no. Quindi io sono d'accordo con lei perché per me è stato così, è stato il mio cuore che ha tirato fuori, che ha accettato le circostanze che erano davanti, che non si è lamentato a un certo punto, che mi ha tirato fuori. E il desiderio che avevo dentro, tenuto dentro, pian piano mi ha fatto camminare. Per cui mi è capitata la cosa strana che dopo un po' di anni che facevo l'universitario mi è capitato, non come lavoro, non come lavoro, ma diciamo come impegno però totalizzante, di fare nascere la compagnia delle opere. E quindi quasi di fare due lavori, quello che avevo davanti e quello che avevo sempre sognato di costruire cose sociali. Come se il desiderio che avesse a un certo punto si è verificato nelle circostanze. Ma se uno non accetta le circostanze che ha davanti, come il modo con cui il Signore lo chiama, neanche il desiderio che ha si realizza. Questo è il tema. Il cuore, per la ragione per cui vivi, accetta un sacrificio come i nostri amici che erano in miniera. Lo accetto perché mantengo la famiglia. O quelli che erano in America. Accettando quello e magari avendo l'idea che tu vuoi diventare imprenditore. Dopo un po' di anni lo puoi anche fare. Ma il cuore lo uso perché mi permette di stare davanti a quel che è senza sentirmi schiacciato. E questo non contrasta con l'idea che nel tempo, perché lavoro è un percorso, possa realizzare quello che voglio. Questa è la prima questione fondamentale. Accettare quello che è davanti continuando a desiderare quello che voglio. Questo vuol dire usare il cuore e vivere da cristiani. Seconda cosa, quella che dicevo della maternità. Io, quando parlo con la Martina e le altre, il modo con cui io partecipo al sacrificio di Cristo oggi è vivere da cristiani la famiglia la famiglia e la maternità perché oggi è un sacrificio e un martirio. Perché io sono tante le persone giovani che per il fatto di aver fatto un figlio sposarsi sono state discriminate dal lavoro. Le donne. O uno lo vive come un modo con cui dà la vita per il fatto cristiano oppure evidentemente si sente sacrificata perché fanno il mobbing fanno il mobbing morbido se uno vuole il figlio questo è un sacrificio. Ma vogliamo correre un rischio di un sacrificio soprattutto le donne per vivere fino in fondo l'ideale in cui si ha e questo è il punto anche qui se uno lo sente come una cosa una costruzione ma se uno lo vive come un aspetto della risposta al Signore come possono avere gli ucraini in un altro modo questo qui diventa un fattore con cui diventa più intelligente riesce a stare nell'offrante io se fossi un amministratore delegato la prima persona che prenderei è una donna che ha figli e un marito perché dal punto di vista della produttività spacca il culo ai passeri e dà del lungo a ogni uomo perché una donna è una classica donna che la moglie che arriva a casa del marito sono stanco allora gli leva le ciabatte gli dà da mangiare mette a posto i figli stira fa il suo lavoro e poi lo consola e si è veramente stanco non si sta riprendendo a me anche se c'è mia moglie questa è la condizione però per dire perché perché una che vive la sua maternità e la sua condizione con l'ideale trova il modo di lavorare così io mi ricordo che c'era la moglie di un professore straniero con cui ho lavorato un po' di anni che l'ha accompagnato lui era argentino è stato in America poi è venuto in Italia tre figli così che era diventata anche lei professoressa a livello mondiale allora gli dico ma scusa si chiamava Estela e dico ma Estela ancora viva ma come fai a far fatto questa roba qua con tuo marito che l'hai seguito sembri la moglie perfetta e diventare professoressa e mi fa perché quando si fanno i bucatini o si stira si può pensare questo vuol dire il modo con cui uno che ha delle condizioni di vita come tante come diceva Martina diventa capace usa il tempo le energie ma questo vale anche per un uomo perché evidentemente noi che abbiamo diamo tempo al movimento ne diamo meno degli altri al lavoro ma questo rende la possibilità di usare il tempo in un modo molto più intelligente di quanto fanno gli altri di rendere prezioso il tempo anche perché il movimento le cose che si fanno nella vita aumentano la creatività e non c'è mestiere dove la creatività non sia fondamentale persino lo statistico che non è vero che è una roba che è tutta automatica perché per scegliere un modello serve la creatività quindi uno che vive una dimensione sociale e così via ha una marcia in più rispetto agli altri anche se gli altri sono disprediti sul pezzo e quindi questo è una condizione con cui il sacrificio che si fa diventa un fattore di sviluppo provare per credere prego sì e anche la capacità di scegliere dei posti di lavoro come dici tu perché ci sono tante noi oggi siamo arrivati in un'era dove il master era la grande azienda dove molto spesso se un numero a parte che trovi un manager interessante ma ci sono realtà soprattutto piccole e medie quello che diceva anche la Paola della sua dove questa relazione con le persone per esempio da noi quando una persona una mamma rimane incinta festeggiamo quasi poi capiamo come risolverlo però ci sono dei punti in cui anche noi dobbiamo scegliere e ci sono dei posti dove si impara a lavorare non solo perché ci fanno vedere tutti i giorni la strada dei prossimi tre anni ma perché c'è dentro una relazione dove ti insegono un lavoro dove hanno a cuore le persone con cui si lavora e questo dice anche della modalità con cui scegliamo un posto di lavoro ciao ciao sono Sara ho 24 anni e non ho un lavoro cioè cosa hai fatto? devo laurearmi in storia dell'arte eh? devo laurearmi in storia dell'arte non ho un marito non ho figli e non ho nulla devi parlare con il microfono sono un po' bassa spero non cade ok ok si sente però ho un papà che ha lavorato 54 anni adesso è felicemente pensionato non ha deciso cosa fare non è stato obbligato e non ha avuto neanche il tempo per pensare a cosa avesse voluto fare da grande ha fatto un lavoro molto duro ha fatto il metal meccanico e con noi con me mio fratello mia mamma è stato molto poco cioè vacanze con mio papà non me ne ricordo e in suo tempo libero molto poco perché lavorava 11 ore al giorno lui era capo di se stesso quindi era sempre in officina e le dedicava all'oratorio squadre da allenare scuola di comunità però insomma con noi poca roba non perché non ci volesse bene cioè davanti a una storia così guardando il mio papà io spesso ho pensato che lui ha vissuto per lavorare perché alla fine non ha fatto altro praticamente però in realtà non posso dirlo perché lui è libero cioè era libero sempre nonostante praticamente fosse rinchiuso in officina dalla mattina alla sera domenica compresa cioè non lo so ma tu senti di averla avuto come padre o no perché perché la capacità affettiva di costruire non è legata al tempo se no la persona con cui dovremmo essere più legati è il portinaio perché ci passiamo davanti tante volte ma non è che di solito il portinaio è il punto che ci educa di più il problema è perché pensate un marito o una moglie quanto tempo stanno insieme rispetto al tempo di lavoro al massimo alla sera fine settimana eppure tu costruisci un'affettività gli amici ancora meno ma se tu vivi un legame un'intensità quella cosa ti costruisce è chiaro che uno decide desidera il più tempo possibile ma il valore è legato all'intensità dell'esperienza che fai allora quindi il tema torna che esperienza faccio Carrone in questi anni ha insistito sull'idea che tutto il tema è l'autocoscienza e se vedete nella scuola di comunità dice che il valore primo del lavoro torniamo a arido o faticoso è quanto io divento cosciente di quello che sono per questo è fondamentale per l'espressione di noi stessi per questo oggi una donna tendenzialmente deve lavorare perché è la scoperta di sé e anzi secondo me una donna che lavora tira sui figli meglio perché come dire ha un altro ambito con cui può guardare con più realismo i problemi familiari e dalla famiglia ha più realismo con cui guarda il lavoro evita l'assolutismo di di mamme soffocanti che se il bambino sputa lo portano all'ospedale no? cioè voglio dire oppure di gente o di Mary Streep il diavolo veste prada tutta la vita è nata voglio dire si tengano quelle robe lì perché sono personaggi inquietanti questa alternanza infatti uno al solito uno dice eh no ma io non sono né il massimo nel lavoro né il massimo nella 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 famiglia avete presente cos'è il decathlon come specialità sono i mediocri in qualunque specialità che però facendole tutte sono i migliori questo è una donna che lavora che è migliore nella specialità complessiva è anche un uomo del movimento che è un po' di qua un po' di là io ho passato anni dopo chiedendo continuamente ma devo vivere il lavoro o devo impegnarmi nel movimento anche su qui ho avuto la stessa risposta di prima mai una risposta perché un adulto ti tira su non rispondendo alle domande del cazzo e tu quindi capisci non avendo risposto ho dovuto scoprirlo per conto mio che appunto è l'equilibrio della vita fatta di cose che non 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 matchano cioè voglio dire che sei così ma questa cosa ti tira su perché capisci che la vita ha questa precarietà è come che però ti permette di camminare ripeto io per esempio quando ci sono i consigli di facoltà in cui i colleghi parlano ore ognuno vuole dire la sua e io dico ma non hanno veramente un cazzo da fare nella vita vogliono cioè perché hanno una verbosità inutile che uno dice minchia il tempo ecco io penso che è la stessa cosa di molti di noi che lavorano che come dire ossessivo compulsivo invece tu get the point arrivi al risultato no? ecco ma questo te lo dà il fatto di dover amministrare il tempo come lo amministriamo noi rende performanti come si dice ma performanti in un modo diverso per esempio vi do un altro criterio del lavoro che vi viene dal movimento io ho sempre fatto il massimo del risultato con le relazioni cioè sono diventato amico dei professori con cui poi ho lavorato ma all'inizio c'era un'amicizia gratuita che mi ha dato all'esperienza del movimento sul lavoro questo diventa un fattore fondamentale perché gli altri che calcolano tutto in modo utilitaristico non sanno cosa vuol dire il valore dell'amicizia tu diventi amico di uno e dopo di che fai una cosa magari una importante ma questo te lo dà qualcosa che viene da fuori mentre gli altri sono lì tutti micchia cioè io per esempio quel professore di cui dicevo sono diventato ho lavorato insieme perché i miei capi l'hanno invitato per chiara fama poi quando erano lì erano gelosi e non lavoravano con lui io ero l'ultimo pirla del dipartimento sono diventato amico lui mi ha proposto di lavorare e ho cominciato così questo vuol dire avere qualcosa che è un altro criterio sul lavoro arrivi al risultato secondo modalità diverse dagli altri con questa gratuità che ti mette dentro l'esperienza che facciamo prego sono Elisa e sono un'educatrice di una comunità mamma bambino vabbè la premessa è che mi piace molto il lavoro che faccio però c'è un punto su cui mi incastro particolarmente soprattutto quando parlo con amiche che fanno più o meno lo stesso mestiere o lo stesso ambito vabbè il mio lavoro non è un lavoro particolarmente redditizio non c'è possibilità di carriera e fondamentalmente e fondamentalmente penso come altri lavori è un lavoro che tende un po' a risucchiarti e in realtà come la mia o quella di altre persone che conoscono tende poi a sfruttare questo ricatto affettivo che si genera lavorando con le persone e facendoti fare turni assurdi insomma sempre con uno stipendio bassissimo e io mi accorgo che per come sono fatta caratterialmente tendo a diventare un po' sindacalista per cui a contare ogni singolo minuto che faccio in più a stare lì a guardare no e sta roba di me non mi piace particolarmente mi imbruttisce e poi di fatto mi accorgo che mi rende anche meno me stessa poi nel fare lavoro che di fatto mi appassiona allo stesso tempo non guardare a queste cose che per me sono delle problematiche reali e molto serie del nostro ambito mi sembra un po' di prendermi in giro e quindi oscillo sentirmi presa per il culo e diventare una sindacalista e quindi insomma questa è un po' la questione la domanda ma vedi tu devi è giusto occuparsi e lottare per il salario giusto eccetera eccetera il problema è come dici tu non diventare ideologici tu lo fai ma non sei trascinata da questo aspetto cioè e questo ti aiuta la gente che è intorno cioè uno dei primi esempi che fa Giussani è quando nasce il sindacalista quello che dalla campagna che arriva in città a rappresentare i bisogni al padrone e dice che ha il cappello in mano e non riesce neanche a dire niente non è che è sbagliato lottare per le cose giuste del lavoro il tema è non farsi trascinare su questo facendosi sangue amare su tutto se no il padrone ti incula due volte non ti dà il salario e ti fa incazzare due a zero palla centro no io lotto per quello che è ma mi mantengo una purità la purità magari te la mantiene non perché sei lì lì sei incazzato ti fai prendere vai a casa e parli con gli amici e ti riequilibrano ti ridanno il giusto senso delle proporzioni questo vuol dire per esempio il paragone con la gente perché tu racconti del tuo lavoro e ti dicono bello giusto che lotti così ma perché ti fai il sangue amaro ma io quante volte io sono uno che fumantino cioè mi parte l'embolo e sono finito e a me gli amici molte volte sono quelli che l'embolo me lo rimettono a posto cioè voglio dire che mi rimettono le proporzioni di quello che capita se non ci fosse questo tipo di compagnia è chiaro che o uno viene trascinato sull'aspetto sindacale o uno viene trascinato che non gliene frega niente l'equilibrio nasce da un rapporto ancora una volta senza un rapporto uno è disequilibrato guai ai soli infatti uno che è individualista non ha l'equilibrio sul lavoro non può averlo o è quello che non fa niente o quello per cui il lavoro è tutto torno all'idea che per me negli anni di lavoro il punto di equilibrio è stato un rapporto che ho vissuto nella vita del movimento per me la compagnia del movimento ha avuto a che fare e ha a che fare pesantemente sulla mia professione perché quando tu sei con qualcuno non è che escludi una parte di te stesso prego e poi come dice lui stando nella fatica che stai facendo anche cercare una condizione che sia migliore cioè non è che dobbiamo fare gli eroi o i sindacalisti no? perché anche noi abbiamo il compito di cioè se un'azienda non è capace a gestire le persone e se le persone prima o poi vanno via tutte e vanno via di solito quelle capaci due conti se le fanno no? perché non è che e quindi io dico stando in una condizione che per te non è giusta con la serietà di non mandare il lavoro a quel paese senza ma verificare se c'è un altro posto dove quella condizione lì è più tenuta conto perché no facciamo fatica a trovare siamo in un momento in cui fortunatamente c'è molta offerta di lavoro magari non quello che idealmente abbiamo in mente ma ce n'è dentro un rapporto di aiuto che si diceva prima nel confronto con gli altri questo borbottano Alessandro l'ho scritta così sono un po' più sintetico faccio un lavoro che mi permette di aiutare le persone cioè sono manager in una società che fa anche formazione co-working e tante cose e in particolare se oltre a fare il mio mi impegno a mettere in contatto i giovani brillanti che formo con le aziende che collaborano con la mia azienda posso veramente dargli una mano a trovare lavoro solo che nel fare questa cosa non prevista dal contratto spendo tante energie e la sera mi ritrovo da solo in ufficio mentre i colleghi che pur mi stimano mi vogliono bene se ne sono tornati a casa e sono lì ad aiutare gli altri ma poi mi chiedo se non stia spendendo tutte le mie energie per aiutare gli altri ritrovandomi stanco contento ma a volte solo mi chiedo se non stia sbagliando il signore ama chi dona con gioia cioè nel senso che se tu alla fine di questo sei incazzato nero meglio che non lo fai perché c'è quella famosa storia attribuita a madre Teresa che dice che c'è si alza una sua suora tutta nera così eccetera eccetera sta per andare fuori dai poveri e lei gli dice senti è meglio che torni a dormire perché questi sono già sfigati se vedono te dopo sono distrutti del tutto cioè voglio dire devi tu hai il criterio che aiuti gli altri nella misura in cui questo ritorna a te e questo non dipende dagli altri e questo dà anche la proporzione perché se per aiutare gli altri arrivi alla sera che sei conciato così forse qualcosa non funziona il cuore è infallibile e ti dice che non funziona e ti dice che è troppo e ti dice che c'è una proporzione in quello che fai perché una delle cose fondamentali ripeto tornando al tema del cuore è che non è uno deve fare quello che piace però ricordatevi sempre karate kid cioè che per fare quello che piace può darsi che uno davanti ti dica metti la cera leva la cera e tu dici ma che cazzo c'entra la cera col karate che cazzo c'entra la cera con quello si può fare anche qualcosa che sembra inutile ma con cui si impara a lavorare quando tu lo accetti quando come il ragazzino lì si fida tanto di quello che è davanti che lo fa e allora molte volte il lavoro che abbiamo davanti è qualcosa che sembra non corrispondere che quindi non è un aiuto agli altri ma che ci permette di andare avanti nella misura in cui noi lo accettiamo come un fattore che ci fa crescere io per esempio scrivendo articoli di statistica sono arrivato a questa conclusione che per l'articolo di statistica c'è il 20% di creatività geniale e così via e l'80% è come pulire il culo un bambino cioè nel senso che devi fare una cosa che come le mamme gli piace il bambino bello ma quando gli puliscono il culo penso che sia un sacrificio soprattutto alle tre di notte ecco il lavoro che faccio io per l'80% perché? perché tu fai inventi la roba poi devi scrivere il paper poi lo correggi poi lo correggi ancora lo mandi a una rivista questa te la respinge poi lo mandi a un'altra rivista questa te la respinge dopo 5-6 anni riesci a pubblicarlo non è che il massimo della vita è un'accettazione di qualcosa che è una circostanza che man mano fa migliorare le cose allora va bene aiutare gli altri ma abbiamo come criterio che la questione è quanto noi siamo più coscienti di noi stessi e allora ci sono cose che sono costringenti ma che possono essere un fattore di crescita nostra anche se non è quello che voglio anche se è una condizione in cui io devo stare lì in quel modo l'importante è come la guardo io perché se io non faccio questo è come se uno studia l'inglese e non fa la grammatica fa la matematica e non fa l'algebra pensate come fa metallurgia e non impara a usare le macchine tu c'hai una corvée in qualunque lavoro che è l'aspetto attraverso cui ti inserisci che possono essere mesi o anni di sacrificio di condizione che sembra noiosa ma non è noiosa se tu hai la coscienza dello scopo se no anche come dici tu aiutare gli altri alla fine ti lascia amaro perché per esempio potresti a un certo punto aiuti qualcuno e pretendi la gratitudine scordatelo servi inutili perché la gratitudine è difficilissima ma tu o hai avuto il premio in qualche altra cosa allora dopo sei pure aiutato uno e sei pure incazzato perché te l'ha messa nel culo cioè voglio dire peggio per te prego giuliana allora io ho sempre lavorato con due frasi del don gius una è quella che ha detto lui mica tanto corretta cioè perché il lavoro è l'aspetto più arido e faticoso del proprio amore a Cristo questa è testuale ok la seconda che invece non è testuale perché non l'ho trovata non l'ho trovata in internet del sempre del don gius dobbiamo recuperare un aspetto che c'è ancora sconosciuto ma di cui presentiamo la necessità perché la vita sia degna è piena e piena di gusto la gratuità allora e cosa vuol dire la gratuità per te faccio un esempio sì prego allora io sono andata in pensione il primo di marzo e l'ultimo mese praticamente ho aiutato due persone di cui una è qua che erano entrati vincendo il concorso vincendo il concorso che era stato fatto dalla regione Lombardia e quindi li ho aiutati a fare i primi passi in maniera intelligente all'interno del mio ente insomma però io l'ho detto anche perché è sempre rimasta un po' una domanda cioè cioè coglievo tanti aspetti nella vita del movimento che mi insegnavano questa cosa ma poi sul lavoro arrancavo sempre un attimo è interessante secondo me la gratuità è una l'ultima cosa è collegata anche un po' con l'aspetto della caritativa perché la caritativa ti insegna a lavorare bene ma ancora più profonda la gratuità è non solo verso gli altri ma è quel tema della mattina io arrivo come dire faccio la mia giornata e mi sento un leone in gabbia non mi è andata bene mi sembra una giornata inutile io la mattina devo recuperare la gratuità verso Dio cioè signore io ti fammi ricominciare con Letizia di fronte a questa Amaro perché sia gratuità verso gli altri resta gratuità verso noi stessi cioè bisogna recuperare questo senso della della levità con cui lavoro che se non è lì non lo potrò mai fare con gli altri quindi la gratuità è più profonda perché la gratuità è proprio quell'aspetto secondo cui io mi rimetto col desiderio di lottare anche nelle condizioni più difficili se no è tutto un meccanismo questo è proprio il tema del mattino di come ritorno a lavorare dopo una giornata come ieri che è stata quindi Giuliana la gratuità verso gli altri è una conseguenza di come io sono dentro me stesso se non ce l'ho dentro me stesso non potrà mai essere verso gli altri è come dire l'accettare la circostanza che mi ha dato il Signore con gratuità e avviene tutto nell'autocoscienza dell'io il tema di Carron di questi anni prima del lavoro non so se mi spiego perché io vedo quando vado al lavoro sono al lavoro malmostoso come si dice a Milano che non si è a posto allora non potrei mai avere una gratuità verso gli altri perché ti dà fastidio quello che hai davanti come l'uomo cattivo no? io la prima parte dell'uomo cattivo io la capisco bene quella dopo è un po' più difficile quando gli dava fastidio tutto e tu devi recuperare questa roba qui prima da questo punto di vista ancora una volta il movimento è fondamentale perché è lì che la recuperi la gratuità vedendo persone e momenti di persone allora voi non lo conoscete ma Ivan Guizzardi è quello che ha fondato i centri di solidarietà è il lavoro per noi l'unico operaio che avevamo un po' di anni fa l'abbiamo messo nella bacheca nel museo perché così avevamo gli operai anche noi no? faccio fatica a parlare pubblicamente voglio dire una cosa oggi ho passato sei o sette ore in via Copernico a Milano perché c'era un convegno di un sindacato e trattavamo con le partite IVA ma via Copernico mi veniva questa considerazione per Milano una via importante per due cose prima perché ci sono prima storicamente perché 150 anni fa ci sono i salesiani e hanno recuperato in malnata il lavoro secondo perché in via Copernico lo citava prima Giorgio Vitadini è nata a Compagnia delle Opere cioè la risposta 40 anni fa che molti si ponevano rispetto alla propria a quello con cui eravamo stati educati di vivere alla propria condizione aveva generato questa intrapresa ma qui la chiudo perché per la Compagnia delle Opere con Vitadini e con l'attuale presidente sarei in difficoltà aveva aveva no? avevamo come dire educati dal movimento avevamo intrapreso che cosa significava vivere la nostra condizione a partire dall'incontro dentro il lavoro e la cosa che mi ha colpito oggi che evidentemente non era un incontro del movimento ma era un incontro Vita tu lo conosci del sindacato nostro mi ha colpito perché di fronte a una tipologia di persone partitiva cioè gente che singolarmente scusa gente che normalmente si considera individualisti no? gente che nella concezione normale che abbiamo nella lettura all'interno di quelle nuove fabbriche che oggi si chiamano Cororchi ma che sono le fabbriche di oggi venivano fuori due cose fondamentali esplicitate e soprattutto desiderate dalle persone che c'erano lì uno era quello di cogliere le opportunità c'erano percorsi di persone che a fronte di condizioni difficili hanno rischiato e in questo era commovente perché mi ricordava appunto la nostra storia di 40 anni fa e la seconda considerazione è che quell'amicizia operativa che veniva prima da Ciccio ricordata è una domanda che si pongono perché queste persone partendo da come dire da vivere un'opportunità la domanda che ponevano in questo caso lo ponevano al sindacato perché era questo il soggetto che era lì oggi ponevano appunto di poter costruire dei luoghi in cui uno non che non si senta da solo perché è una frase un po' così ma che uno possa come dire imparare e tenere destro e tenere destro questa operatività e per me questo è come dire io non sono un ragazzo come voi ho 69 anni e da circa 50 anni frequento questo luogo anzi il mio primo incontro è venuto qui nel 69 il giorno di San Giuseppe che ha segnato un po' la mia vita per dire che questa cosa mantenere questa cosa credo che sia la cosa almeno dal punto di vista più personale più decisiva per la mia appartenenza al movimento cioè vuol dire che loro hanno fatto un sindacato che difende i precari quelli di Amazon quelli di che portano i cibi e roba del genere proprio per gli ultimi i più poveri allora cosa vuol dire vuol dire far percepire anche alla gente che fa più fatica la possibilità che il loro lavoro diventi un'occasione di crescita ed è stata una cosa interessante perché tutti i sindacalisti mettono le mani sugli strutturati è interessante che tra di noi sia nato questo desiderio dell'aiuto alla gente che fa più fatica è un frutto maturo di quella gratuità che cui si diceva di aiutare perché dobbiamo renderci conto anche di cose che anche se noi facciamo sono nate come certe realtà di formazione professionale come Portofranco cioè certe opere che vogliono dire che il frutto maturo di un'educazione non solo pensa al proprio lavoro ma a un certo punto genera dei tentativi di risposta che sono degli esempi come Caron diceva un po' di anni fa cioè delle opere sono degli esempi guardando i quali uno capisce anche per sé cosa voglia dire pensate per esempio molti di voi hanno fatto caritativa a Portofranco pensate cosa vuol dire dare 400 insegnanti 500 insegnanti che a Milano danno il tempo gratuitamente per aiutare degli studenti a studiare anche questo è un lavoro anche se non è retribuito e cosa vuol dire per noi vuol dire dare un esempio di un modo ricordando il quale nel nostro lavoro di tutti i giorni vediamo una posizione ideale come quando pensiamo a Don Bosco pensiamo che anche la persona meno dotata può essere qualcuno che ha una possibilità e allora è più facile sopportare la fatica se abbiamo in mente queste cose anche la fatica che può sembrare inutile perché quando si ha nel cuore certe cose quello che dicevamo prima diventa più facile e quindi avere una dimensione di popolo mentre si lavora non solo la nostra ci apre la mente ci dà più vigore ci dà la forza di lottare ci dà la ragione per tentare di migliorare la propria condizione quella degli altri ancora una volta non siamo da soli nel lavoro ma questa è una cosa che deve permearci ciao sono luigi ho 35 anni e lavoro da più o meno 12 anni volevo farvi una domanda chiedendoti di esplicitare forse una cosa che già hai accennato nel senso che se le due braccia della croce sono affettività e lavoro in questo momento della mia vita io mi sento molto proponderante verso la parte lavorativa non ho famiglia non ho figli non ho legami in questo momento affettivi e il problema o la fortuna è che a me il mio lavoro piace piace nel senso che assorbe corpo cuore anima e lo faccio con passione in più lavoro in un ambiente universitario ospedaliero dove la competitività e anche diciamo il confronto con i colleghi è sempre molto elevato e dove comunque c'è sempre anche il desiderio di essere più bravo dell'altro essere quindi dove l'asticella è sempre si è sempre rimandati a a migliorarsi e a spostarla sempre più più in là mi rendo conto però che il rischio di tutto questo è che a un certo punto questo possa creare proprio perché mi piace perché ci dedico tanto tempo e questo possa creare quasi una dipendenza nel senso che il rischio è quello di misurarsi per quello che uno riesce a fare guadagnare per la carriera che uno riesce ad ottenere e e però io devo farci conti col fatto che è un desiderio che io ho dentro certo ma voglio credere una cosa ma tu hai un gruppo di fraternità qualcosa un giro nel movimento di amici e quindi l'affettività ce l'hai perché l'affettività di un'amicizia tra di noi non è questo e quindi vuol dire che l'equilibrio è quanto tu pratichi questo livello di rapporto perché non è detto che l'affettività sia la famiglia sia una vocazione come memory l'affettività dell'amicizia nostra è un valore enorme e questo equilibra la vita questo è un tema su cui tu puoi giocare la vita come il lavoro anzi secondo me ricordate un'altra frase di Giussani che per la famiglia la fraternità è più essenziale della famiglia cioè se tu non hai un rapporto che ti genera anche la famiglia soffoca quindi questo vale per chi ha famiglia e chi no che ci sia un giro di amici con cui condividi la vita con cui vai alla fine del mondo per dire un'altra frase di Carrot questo è fondamentale prima o poi devi planare su qualcosa del genere e quindi l'affettività noi ce l'abbiamo che è questa compagnia qui questa non è la cosa generica che sta fuori ma è un fattore che ti porta come gli apostoli gli apostoli erano amiche parenti tolto qualcuno però questa cosa li ha portati per noi è la stessa cosa la dimensione della compagnia è un fattore fondamentale della nostra affettività e questo quindi è ciò che ti equilibra rispetto al lavoro aggiungo solo una cosa però è come se psicologicamente io mi sentissi di dover fare un passo indietro a volte rispetto a questo desiderio e dovessi perché un passo indietro perché se il lavoro diventa così importante che diventa quasi appunto il compiacimento ti faccio una domanda ma per chi lavori la domanda a voi per chi si lavora se il lavoro diventa così importante o lavori per i cavoli tuoi o lavori per costruire qualcuno che è intorno infatti uno che ha famiglia lavora per avere dei soldi per vivere ma per chi lavori per chi fai il tuo lavoro in ospedale se la domanda diventa questo il lavoro che ti prende non è che ti tira fuori la domanda che dobbiamo farci è per chi lavoriamo molto banalmente se un paese non lavora non ha neanche il reddito per aiutare i vecchi per aiutare gli handicappati per così via quindi la domanda che uno che lavora tanto deve andare ma per chi lavoro questa domanda fatta così apre non ti fa soffocare su il diavolo veste prada e quindi non è che per lavorare devi tirarti indietro sul lavoro ma domandarti per chi lo fai l'ultimo ciao ciao a tutti volevo raccontare questa cosa mi chiamo Francesco 37 anni rispetto a quello che dicevi prima sul fatto che il movimento ci educa a un'intelligenza maggiore sulla realtà nel senso che io lavoro ciao lavoro in una multinazionale da due anni circa e siamo in modalità smart working P&A nel senso che sono due anni che stiamo quasi sempre lavorando da casa che alla lunga diciamo come condizione è un qualcosa che è un po' frustrante almeno per me nel senso che taglia via tutto l'aspetto di se vuoi componente sociale con gli altri colleghi e diciamo che anche un po' confrontandomi con gli amici del movimento alla fine ho deciso un po' di muovermi di non rimanere fermo su questa situazione e mi è venuto in mente per esempio il fatto di poter dedicare un pomeriggio ogni due settimane a Portofranco appunto quello che dicevi tu prima una cosa se vuoi anche molto semplice però vuol dire sono due ore che io dedico ogni due settimane che mi stanno aiutando proprio sull'aspetto relazionale se vuoi sul fatto di essere sempre più capace di essere attento alle persone e questo è il primo il secondo modo è stato quello anche un po' di cercare di mettersi insieme chi fra di noi appunto lavorava da casa siamo in 4-5 in zona che lavoriamo tutti diciamo in contesti di multinazionale banalmente appunto spostandoci di casa in casa come occasione proprio anche di confronto appunto c'è uno che lavora in Snam un altro che lavora in Oracle insomma in 3-4 posti diversi può anche essere l'occasione per confrontarsi sul lavoro sui cambi lavorativi sui training che uno ha fatto e quant'altro e mi accorgo adesso che siamo arrivati a un punto in cui l'azienda ha mandato la notifica in cui da aprile si tornerà almeno con diciamo con una modalità ibrida di presenza e di lavoro da casa in cui c'è gente nella mia azienda che sostanzialmente sono due anni che non mette i piedi in ufficio che sono spaventatissimi perché comunque sono due anni che sono chiusi a casa solo con la famiglia col cane eccetera con lo schermo davanti dopo due anni adesso che appunto sono costretti a tornare si cagano sotto perché non sono più abituati a rapportarsi con gli altri e soprattutto sono passati due anni in cui ci sono stati anche tanti cambiamenti organizzativi per cui dicono sono due anni che sono a casa qua al riparo adesso dal nulla sono ributtato nella mischia e mi accorgo che queste cose che mi è capitato di fare grazie all'esperienza col movimento invece mi danno una marcia in più rispetto agli altri adesso sono solo contento di tornare io penso che noi in una condizione in cui siamo oggi abbiamo un compito perché come dire la prima carità che viviamo è aiutare i nostri compagni di lavoro a recuperare una percezione equilibrata della realtà perché pensate uno che non ha appunto una compagnia come la nostra eccetera eccetera e così via cosa voglia dire la dimensione di lavorare a casa di non avere più un rapporto oggettivo con le condizioni in cui sono nella misura in cui noi siamo coscienti di noi stessi e noi diamo un contributo sociale perché aiutiamo gli altri a ripercepire il rapporto con la realtà oggi lo smart working eccessivo diventa un fattore di individualismo e di mancanza di percezione di quello che abbiamo intorno impressionante quindi questo è un compito che abbiamo cosa vuol dire vivere da cristiani vuol dire questo aspetto qui una delle opere di misericordia spirituali che voi non sapete ma è una cosa fondamentale della vita della chiesa è consigliare i dubbiosi e quindi questo è un fattore che si vive sul dubbio di cosa voglia dire lavorare quello che ci è stato donato diventa un fattore di aiuto per gli altri la prima gratuità qualunque lavoro si faccia io direi che questo è un work in progress cioè che se vogliamo fra un po' ne rifacciamo un'altra andiamo avanti a discutere perché questo mi sembra un tema che ci accompagna un po' sempre sì anche come diceva Giorgio all'inizio che tutto si gioca in un incontro anche magari approfondendo questi temi invitando qualcuno quello che a noi sta a cuore principalmente a noi è che questa strada sia una strada che possa essere un aiuto vero come adesso anche raccontava Brenz in tutti gli ambiti che sia il lavoro i tre ambiti il lavoro la famiglia e il sociale come compito e come anche compimento di quello che della nostra persona per cui a breve solo questo avviso sono giorni di grande bisogno soprattutto per i profughi ucraini che stanno raggiungendo anche Milano e come casa della solidarietà amici di Sandra in rete con altre associazioni ad esempio i bambini dell'est stiamo ospitando una decina di profughi qua tre nuclei familiari in appartamenti ed è gente che ha bisogno di tutto cioè non ha più nulla per cui ha bisogno di una casa ha bisogno di alimenti ha bisogno di vestiti insomma ha bisogno di tutto per questo vi chiedo laddove qualcuno di voi fosse disponibile o sapete di qualcuno che sia in termini di ospitalità sia come possibilità lavorative prima un'amica mi diceva che un'azienda ha deciso di assumere proprio un profugo quindi di segnalarlo eccetera vi chiedo di scrivere a casa della solidarietà in modo che ci si possa mettere in rete e provare a rispondere a le diverse persone che chiedono in particolare questa sera i contributi che raccoglieremo oltre che aiutare alle spese per l'affitto della sala verranno utilizzati proprio per il sostentamento di queste dieci persone che da 15 giorni stiamo aiutando un'azienda di segnali di segnali di segnali di segnali Grazie a tutti.